benvenuti amici di androidworld.it oggi facciamo l'unboxing di un mini pc che si chiama plank s e che sostanzialmente serve a portare l'esperienza android sul nostro televisore che si tratti di giochi che si tratti di contenuti multimediali come vedete infatti è compatibile appunto con il dlna in modo da poter ricevere anche contenuti video o foto da un server dlna presente sulla nostra rete locale lo streaming avverrà in full hd tramite wifi e tra l'altro è compatibile anche con airplay andiamo a mettere quindi un attimino da parte queste altre due scatole per farvi vedere il contenuto di quella principale qui abbiamo il nostro box con questo simpaticissimo android dino formato tv barra extraterrestre andiamo rapidamente a vedere cosa c'è sul fianco due porte usb e il pulsante di reset sul retro invece abbiamo l'alimentazione il cavo rg 45 di rete l'uscita ottica e l'uscita hdmi e in un ultimo l'uscita v accanto proprio all'antenna altro lato abbiamo due ulteriori porte usb otg come ci ricorda anche la scritta al suo fianco quindi per collegare dispositivi esterni mentre sul fianco inferiore abbiamo semplicemente un riepilogo delle caratteristiche diamo un'occhiatina a questo punto posso togliere anche la pellicola dunque qua davanti dovrebbe esserci quello che credo sia un led o comunque una luce che indica il funzionamento del dispositivo mentre su questo lato anteriore abbiamo probabilmente anzi no sicuramente questa è l'uscita per il microfono meglio l'ingresso audio per prendere appunto il volume ambientale e qui abbiamo invece quella che credo sia la porta infrarossi per l'eventuale telecomando che infatti troviamo esattamente qua sotto tiro fuori a questo punto anche lui come volete telecomando piuttosto standard alimentato da due batterie di tipo tripla a andiamo a metterlo nuovamente da parte per vedere che cosa c'è ancora più sotto qui abbiamo il controller perché come dicevamo appunto si tratta anche di una console per videogiochi controller con due di pad analogici invece qui quello direzionale pulsanti classici quattro pulsanti due pulsanti qui sul fianco e menu start home select e search che si riferiscono sostanzialmente ai pulsanti di android qui invece in basso abbiamo il pulsante di accensione mentre sul retro il vano per le batterie che come vedete sono già presenti ed è presente appunto anche l'adattatore usb per installarlo insomma per collegarlo sulla box in modo da trasmettere via bluetooth supponiamo concludiamo rapidamente l'unboxing con alimentatore cavo usb micro usb abbiamo poi a parte anche un cavo hdmi ovviamente necessario per collegarsi al televisore e infine nell'ultima scatola che avevamo messo da parte prima abbiamo anche la tastiera che a questo punto vado direttamente a spacchettare la tastiera completa come vedete con i pulsanti android al centro per utilizzare appunto in maniera diciamo proprio da pc il nostro box con il relativo dongle usb per essere collegato al box vero e proprio ok per questo rapido unboxing della nostra plank è tutto un saluto da nicola ligas per androidworld.it e e e e e e e e